Salve fan di Rosso Nero! Oggi abbiamo per voi un'informazione entusiasmante che vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Date un'occhiata, fan, questa notizia bomba è stata appena confermata. Prima di tutto, non dimenticate di mettere i mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale di notizie, dove abbiamo appena condiviso un aggiornamento che potrebbe sorprendervi a prima vista. Raffaeleao è stato un giocatore fondamentale per il Milan nelle ultime tre stagioni e, visto quanto è stato bravo, non sorprende che diversi club importanti stiano monitorando la sua situazione. Tuttavia, come ha confermato Giorgio Furlani, la posizione è chiara. Leao ha debuttato alla grande con i rossoneri nella stagione dello scudetto 2-0-2-1-22, segnando 14 golle e 12 assist. Nel 2-0-2-2-23 ha realizzato ben 16 golle e 15 assist, mentre in questa stagione ha realizzato finora 10 golle e 11 assist. Il Paris Saint-Germain è stato collegato all'ala portoghese, visto che Kylian Mbappe sembra destinato a partire, ma il Milan ha una posizione chiara in merito. Lo ha confermato Giorgio Furlani in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, riferendosi ancora una volta alla clausola rescissoria. Raffaele ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, ma soprattutto vuole restare al Milan. Sta bene qui, dovrebbe essere lui a chiedere di andare via, ma non vuole proprio. Viva Leo al Milan! L'amministratore delegato ha anche chiarito che il Milan cercherà di migliorare il La Rosa quest'estate. Vendere un giocatore come Leao renderebbe molto difficile migliorare la squadra, quindi la sensazione è che i rossoneri terranno le loro stelle e costruiranno intorno a loro. Che dire, tifosi rossoneri? Cosa ne pensate della situazione di Raffaele Hao? Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. E non dimenticate di mettere i mi piace al video per dimostrarci il vostro sostegno. Non vediamo l'ora di sapere cosa avete da dire sul futuro del nostro amato Milan. Percorriamo insieme questo viaggio di emozioni e successi. Forza Milan!